senza stipendi da gennaio protestano gli assistenti degli alunni disabili che oggi hanno incrociato le braccia il calvario di una zia la donna è stata amminacciata e sequestrata dal nipote raggiunto da un provvedimento restrittivo pareggio amaro il trama di calcio non va oltre l'1 a 1 nella gara contro il sant'agata ben ritrovati lo dicevamo nei titoli di apertura protestano gli assistenti degli alunni disabili che sono senza stipendio dallo scorso mese di gennaio da ieri e per l'intera giornata di oggi gli assistenti all'autonomia alla comunicazione degli alunni con disabilità incrociano le braccia contro il mancato pagamento degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio a cui tra qualche giorno si aggiungerà anche la mensilità di marzo a proclamare lo sciopero dei dipendenti della società cooperativa azione sociale ar ollus e ancora una volta la fi calmas cgl di trapani che denuncia la continua violazione del diritto contrattuale alla puntuale retribuzione da parte della società cooperativa al personale asacom gli assistenti per l'apprendimento degli alunni con disabilità che lavorano in sinergia con gli insegnanti le due giornate di sciopero a cui hanno aderito oltre 70 per cento dei dipendenti fanno seguito alla protesta proclamata il mese scorso dalla fi calms sempre contro la mancata puntualità del pagamento delle retribuzioni dopo il precedente sciopero dice segretario della fi calms cgl anselmo gandolfo la cooperativa azione sociale aveva proceduto a derugare gli stipendi ma solamente quelli relativi a mesi di novembre e di dicembre oggi ci ritroviamo nuovamente davanti alla costante violazione di uno dei fondamentali diritti contrattuali nonostante ciò le lavoratrici e i lavoratori continuano a svolgere regolarmente la loro attività mostrando serietà e professionalità la fi calms cgl ha annunciato ulteriori iniziative di protesta volte a tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ed è protesta anche all'istituto nautico di trapani vediamo il perché gli studenti dell'istituto marino torre di trapani il glorioso nautico che decine decine di comandanti ufficiali di coperte di macchina consegnato alla marina mercantile e militare italiana stamani hanno protestato e manifestato tutto il loro malessere per le condizioni in cui versa la storica sede di viale regina elena stamani hanno tapezzato l'ingresso della loro scuola di cartelli di protesta eloquenti le scritte che non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni altrettanto eloquenti le transenne e i nastri che se da un lato mettono a posto le coscienze dei responsabili da quegli scolastici a quegli amministrativi degli enti locali in questo caso il libero consorzio dei comuni dall'altro non garantiscono la sicurezza che si dovrebbe ai nostri ragazzi la situazione non è che si sia manifestata dall'oggi al domani il deperimento di pilastri contro soffitti pareti cornicioni parapetti e come una malattia lunga e penosa i cui sintomi si manifestano per tempo e per tempo vi si potrebbe porre il rimedio così non è stato e di tutta evidenza stamane mentre facevamo le riprese abbiamo chiesto del responsabile del plesso per avere indicazioni nei chiedimenti però impegnato non ha potuto riceverci sulle condizioni dell'istituto nulla di più le immagini come detto parlano per noi chiudiamo invece con quanto scritto dagli studenti dell'istituto nautico su uno dei cartelli una riflessione più che una protesta che sottoscriviamo integralmente nelle nostre aule ci sono sogni da inseguire e progetti da realizzare non lasciate schiacciare i nostri desideri dai macigni non giocate con la nostra vita non giocate con la sicurezza c'è solo da perdere minacciata e sequestrata dal nipote vittimo una donna trapanese che ha sporto denuncia ai carabinieri un vero e proprio calvario quello vissuto da una donna trapanese costretta da secondare le continue richieste di denaro del nipote ingiuri e minacce nei suoi confronti in una circostanza la vittima sarebbe stata sequestrata in casa a porre fine alle violenze i carabinieri che hanno notificato a un 34enne residente a milano ma domiciliata ad erice la misura cautelare di avvicinamento alla zia con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di trapani che ha condiviso le risultanze investigative raccolte dai militari dell'arma ai quali la donna stanca di subire vessazioni si è rivolta l'uomo indagato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona è infatti emerso che almeno in una circostanza il nipote avrebbe rinchiuso a chiave in casa la donna per impedirle di uscire acqua inquinata a marsala ecco le soluzioni prospettate dal sindaco grillo non vi è alcuna intenzione di privatizzare noi stiamo semplicemente purtroppo prendendo atto di una carenza di programmazione che mi è stata negli anni è noto che la falda acquifera nel territorio marsalese si sta notevolmente abbassando viene da tempo a quanto pare da parecchio tempo un concentrato di nitrati che non rendono potabile l'acqua di quel comprensorio vedi anche petrosino mazzara sono stato adottati dei provvedimenti proprio in in quella direzione per il divieto dell'uso dell'acqua potabile cosa che ho dovuto fare anch'io adesso stiamo attivando procedure per la miscelazione dei vari punti di distribuzione delle nostre risorse idriche per rendere potabile l'acqua al momento non ci siamo riusciti perché chiaramente vanno fatti dei controlli dei prelievi periodici all'interno e all'esterno prendiamo atto insomma che vi è una vera e propria crisi idrica nel nostro territorio non te l'aspettavo insomma dovrebbe dare a questo devo dire che da nel mio programma elettorale avevo proprio ipotizzato un collegamento con la dica di con la rete di montescuro garcia perché noi siamo come città di marsale isolati nei miei predecessori il sindaco carini in particolare aveva ipotizzato addirittura di fare un dissalatore proprio perché è noto che siamo che siamo isolati dal resto delle fonti idriche principali siciliane per cui la cosa più importante è quella di collegarci alla rete più importante e nel programma abbiamo proprio inserito questo collegamento con montescuro a cui si fa riferimento oggi attraverso un programma di sicilia acque a cui abbiamo concorso abbiamo sollecitato ci siamo incontrati assieme ai nostri collaboratori e tecnici abbiamo sollecitato intervento in questa direzione perché l'unica soluzione al momento tranne ipotizzasse il ricorso a un dissalatore è l'unica soluzione che ci può consentire di poter assicurare questo bene essenziale sprattata dalla vicaria l'associazione la salerniana e ora alla ricerca di nuovi locali la salerniana storica associazione artistica che vanta una importante galleria di arte contemporanea di circa una settantina di opere di autori tra i quali carla accardi antonio sanfilippo entro dieci giorni deve lasciare la vicaria l'immobile di pregio a vocazione museale di proprietà del libero consorzio comunale di trapani dove è ospitata da alcuni anni l'ex carcere infatti stato affidato in concessione a seguito di una gara alla cooperativa candischi il commissario straordinario del libero consorzio aveva chiesto alla salerniana un cannone anno di 85 mila euro che l'associazione non può pagare la salerniana fondata dal poeta tranchida e ricevetta sotto la direzione artistica di michele cossi rovanta una prestigiosa tradizione culturale e pittorica ha ospitato mostre curate da chile bonito liva e collaborazioni con la storica dell'arte palma bucarelli giulio garro argan e gillo dorfless il presidente della salerniana marco nicodemo dice siamo di fronte a una situazione surreale mentre il ministero promuove la valorizzazione delle realtà periferiche favorendo il rientro dai musei dai depositi delle collezioni minori a trapani una collezione storica del valore di quasi 3 milioni di euro viene espropriata con una sufficienza e una tracotanza imbarazzanti o alcuni contatti al nord conclude nicodemo si sono offerti di darci ospitalità saremo costretti a lasciare la sicilia e portare via la pregiata collezione le zess a trapani delle agevolazioni e delle semplificazioni per le imprese ne parla l'assessore comunale fabio bongiovanni assessore bongiovanni finalmente iniziamo forse a comprendere un po che cosa sono queste zesso con questo convegno di merdi e beh riesco a dare seguito alla promessa fatta proprio lei alla trasmissione dell'assessore turano e facciamo questo convegno importante informativo delle agevolazione delle intraprese che possono consentire alle aziende di insediarsi nella zona economica speciale queste zone speciale hanno visto finalmente la luce da qualche tempo grazie al decreto del ministro per la coesione mara carfagna che ha nominato i commissari per la zona economica speciale della sicilia occidentale e per la zona economica speciale della sicilia orientale il professore carlo menta e il commissario per la zona economica speciale occidentale e verrà a trapani insieme all'assessore muturano al personale al dipartimento delle attività produttive al dottor massimo scatà che è l'esperto di planificazione strategica dell'autorità di sistema portuale e verrà a spiegare quali sono i vantaggi agevolazioni che consentono alle imprese che si inserano nella zona economica speciale di godere di un credito d'imposta addirittura per sette anni rinnovabili per altri sette sarà una zona doganale sostanzialmente dove non ci sono delle tasse nella produzione di beni 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 mobili che si devono che si devono produrre con un credito d'imposta che varrà per 14 anni oltre che un'altra serie di agevolazioni sulla personale sugli investimenti sull'acquisto dei macchinari che verranno spiegati nel dettaglio dagli dagli esperti voglio dire una cosa le zess sono una settantina 74 76 sanorio romale in tutto il mondo 14 ce ne sono in europa grazie all'intuizione dei precedenti governi e del governo musumeci di mimo turano che ha ripreso in mano questa pratica che era rimasta bloccata due delle 14 zone economiche speciali in tutta Europa ricadono in sicilia questo potrà essere davvero un volano se le se gli ordini professionali le associazioni degli industriali comprendono l'importanza strategica di questo strumento la zona economica speciale che riguarda tutta l'area portuale riguarda tutta l'area industriale di trapani arrivando fino a quasi all'ingresso dell'autostrada per trapani e comprendendo anche la zona aeroportuale consentirà davvero la possibilità di cambiare il volto della produzione dell'attività produttiva a trapani io spero che tante persone possano venire possono venire ad ascoltare quello che hanno da dire gli esperti e poter valutare per bene in concreto quali sono gli estremi vantaggi che potranno avere nell'insediarsi nella zona zessa il porto turistico di bonagia si farà lo assicurato il sindaco di valderice francesco stabile sono pienamente convinto che la crescita e lo sviluppo di questo territorio di valderice di bonagia non può non passare dalla realizzazione di questa importante infrastruttura che è il porto di bonagia da troppi anni la comunità attende quest'opera e da troppi anni si lavora per la realizzazione di questa importante infrastruttura l'obiettivo non è stato mai raggiunto noi stiamo provando con tutte le nostre forze con la nostra tenacia di raggiungere questo obiettivo e per questo motivo stiamo continuando a lavorare giornalmente per la riuscita di questa di quest'opera e siamo in una fase molto importante partivamo da una revoca del finanziamento subito dopo il mio insediamento ho ricevuto quella che era la revoca dell'unico finanziamento ministeriale che il comune di valderice aveva di 5 milioni di euro di euro che realmente non sarebbero serviti per realizzare il porto ma sarebbero serviti soltanto per realizzare qualcosa che non poteva sicuramente dare segni tangibili di quello che doveva essere quello che dovrebbe essere il porto di bonagia noi abbiamo ripreso un progetto lo abbiamo rimodulato a quelle che sono le esigenze ambientali che oggi le normative richiedono lo abbiamo riadeguato a quello che è il preziario regionale attuale e lo abbiamo presentato negli uffici di competenza continuano costantemente giornalmente le interlocuzioni con il presidente della regione musumeci con l'assessore mimmo turano e con l'assessore alle infrastrutture marco falcone perché vogliamo realmente realizzare quest'opera sono lo dico con un pizzico d'orgoglio perché siamo riusciti a fare prendere un impegno importante al governo regionale che è quello di inserire questo progetto questa importante opera nella programmazione regionale 2021-2027 siamo in attesa di questo risultato che credo sia un tassello importante per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo questo porto sa da fare perché questo porto riuscirà a cambiare realmente le sorti di questo territorio sarà il volano che genererà l'economia della comunità di Valderice tutta e sul VAS invece che notizie ci sono sulla VAS siamo in attesa che la commissione regionale all'ambiente si pronunci su questa valutazione di incidenza dopodiché abbiamo già avviato le interlocuzioni con il ministero con gli uffici ministeriali e siamo pronti per poter presentare il progetto ed essere valutato quindi mi auguro che prima possibile possano arrivare risultati che tutti speriamo sappiamo bene che le procedure sono abbastanza lunghe ma abbiamo anche la questa volta abbiamo la certezza di aver intrapreso il percorso amministrativo corretto quello che negli anni invece non si era verificato motivo per cui ancora ad oggi il porto di buonagia non è stato mai realizzato noi oggi abbiamo questa certezza e siamo sicuri di andare nella direzione giusta perché le interlocuzioni quotidiane con i vari enti sovrardinati ci rassicurano di quello che è il lavoro che stiamo portando avanti capire in un zio nasi al via al museo pepoli di trapani un ciclo di incontri capire in un zio nasi l'uomo il politico il collezionista l'intellettuale eclettico il museo pepoli presso le cui sale allestita la mostra su nasi ha organizzato un ciclo di nuovi incontri collaterali per meglio comprendere la temperie in cui operò il via questo pomeriggio con inizio alle 17 e 30 con una conferenza su la fotografia trapani tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento affidata a michele fundarò in altri otto incontri dopo quello del pomeriggio saranno approfonditi gli aspetti particolari della vita sociale e culturale della città di trapani durante la fine dell'ottocento e primi anni del novecento cercando di cogliere gli umori le tendenze il clima generale in cui operò nasi che animò la vita culturale del periodo e di cui la mostra approfondisce la vicenda umana l'esperienza politica il ruolo di raffinato intellettuale collezionista d'arte il percorso espositivo della mostra ricostruisce attraverso una ricchissima testimonianza di materiali documentari fotografici e storici oltre che di una selezione di preziosi arredi su pelletti le immagini storiche proveniente dalla sua abitazione gli ambienti e le tappe della vicenda politica umana di nunzionasi tutti gli appuntamenti saranno preceduti da una visita guidata alla mostra in programma per le ore 16 la mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 maggio con gli orari di apertura del museo dal martedì al sabato dalle 9 alle 18 la domenica dalle 9 alle 13 la visita alla mostra è compresa nel prezzo di ingresso al museo 6 euro biglietto intero amaro pareggio per il trapani calcio contro il sant'agata finisce 1 a 1 al provinciale si gioca il recupero della ventesima giornata del campionato di serie d il trapani ospita il città di sant'agata granata in campo con cultraro tra i pali bruno pagliarulo maltese barbara antezza olivera santarpia russo musso vitale dirige rizzello di casarano parte subito forte il trapani all'ottavo minuto prima conclusione granata con santarpia bravo a tirare immediatamente ma il portiere avversario respinge un minuto dopo altra occasione per il trapani ma musso perde l'attimo buono per calciare poi la sfera arriva olivera il cui tiro viene parato la partita si sblocca al ventiduesimo con musso che riceve il pallone da vitale e segna il gol del vantaggio tre minuti dopo occasione per il sant'agata con il colpo di testa di buongiovanni che però manda alto sopra la traversa il trapani gestisce bene la gara e fu degli spazi al quarantatresimo si rivede il sant'agata con cicirello la cui conclusione si perde di poco fuori dalla porta finisce così la prima frazione di gioco nella ripresa subito doppio cambio per il trapani con spano ed amorello che prendono il posto di russo e vitale al 55esimo il trapani sfiora il raddoppio con il colpo di testa di musso al 63esimo arriva il pari degli ospiti che sfruttano un errore della difesa trapanese la sfera arriva ad alagna che rimette in equilibrio il match e 1 a 1 al 72esimo ancora ospiti in avanti catalano però spreca trapani confuso sant'agata molto più preciso all'ottantaquattresimo doppia potenziale occasione per il trapani con musso ed è felice ma i due calciatori erano in fuorigioco un minuto dopo gol annullato al trapani musso aveva insaccato dopo aver raccolto un perfetto cross di sant'arpia la posizione però è di offside il risultato resta di 1 a 1 finisce così al provinciale il trapani guadagna un solo punto da questo recupero domenica sempre al provinciale arriva il troino è tutto per questa edizione grazie per l'attenzione